Devo credere in un mondo fuori dalla mia mente, devo convincermi che le mie azioni hanno ancora un senso, anche se non riesco a ricordarle. Devo convincermi che quando chiudo gli occhi il mondo continua ad esserci. Allora, sono convinto o no che il mondo continua ad esserci? C'è ancora? Sì. Tutti abbiamo bisogno di ricordi che ci rammentino che siamo. Io non sono diverso.